Salve a tutti, salve ragazzi, da SMT Airsoft, siamo qui per fare un piccolissimo trailer di cosa vedrete in questo canale qua, in questo canale qua potete vedere gameplay miei e sui, sui da notare, miei e sui, recensioni di fucili e customizzazioni interne e esterne e pareri sulle ASG. Quindi ragazzi, seguiteci, se volete rimanere in contatto, chiedetici quello che volete, siamo pronti, siamo preparati e pronti a rispondere a qualsiasi domanda, sia su questo canale YouTube, sia sulla nostra pagina Facebook e Twitter, mamma mia, quindi ragazzi, chiedete, chiedete, chiedete o svagatevi, se volete guardare semplicemente i nostri gameplay o le nostre recensioni, fatevi due risultati. Noi siamo qui per questo, non vogliamo vendervi niente, vogliamo semplicemente aiutarvi a fare l'acetta giusta del soft air. Hai detto tutto, conciso, chiaro e pulito. Niente, io passerei i saluti, ciao. Da S, M, divertitevi e T. Heedoo!